Giovedì affrontiamo Castellano, una partita sicuramente complicata, anche se per noi è importante in questo momento cercare la vittoria perché ci manca da un po' di tempo, quindi dobbiamo sicuramente ritrovare prima di tutto il nostro gioco e poi cercare quella cosa più importante che è la vittoria, dobbiamo riscattare soprattutto la partita d'andata dove ci hanno battuto e ci hanno fatto soffrire e cercheremo di trovare tutte le motivazioni per cercare di portare a casa questa vittoria.